Ogni anno un gruppo di volontari salva gli anfibi che a Brendola percorrono via cavecchie. Nelle serate tra marzo e aprile, infatti muniti di torcia e secchiello, i volontari di SOS Anfibi Vicenza aiutano migliaia di rospi che dalla collina si accingono ad attraversare la strada per raggiungere il laghetto di pesca sportiva dove deporranno poi le uova, salvandone centinaia dallo schiacciamento delle auto. Le attività dei volontari hanno luogo di sera dall'imbrunire fino a circa mezzanotte e si concentrano in una strada pericolosa in cui i volontari prelevano gli animali da un lato della strada fino al lato opposto. Per questo l'amministrazione ha contribuito a mettere in sicurezza i volontari predisponendo segnaletica stradale provvisoria, reti di protezione e gilet ad alta visibilità.